Oggi inauguriamo quello che è forse il più grande intervento da dieci anni a questa parte dentro la nuova sede del Meyer, questo nuovo centro di alisi che è all'avanguardia sia sul piano delle tecnologie impiegate ma anche della concezione globale del comfort assistenziale che va a aggiungersi al livello internazionale della ricerca scientifica che nell'ambito della nefrologia al Meyer si compie. Ci troviamo nel nuovo reparto della dialisi, si tratta di un ampio open space dove ci sono sei postazioni di dialisi, una specificamente dedicata agli acuti con tutte le più moderne tecniche di dialisi, c'è poi una stanza dedicata interamente alla dialisi peritoneale, ci sono nuovi ambulatori, nuovi ambienti per i day hospital e per le visite dei bambini in un ambiente che è completamente nel verde, dalle tante finestre si possono vedere gli alberi del parco, questo migliorerà moltissimo la qualità della vita dei bambini che possono fare qui la dialisi oltre a farli godere veramente delle più avanzate tecniche della medicina moderna. Buon anno! 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 Grazie a tutti